Ok, buongiorno a tutti, io partirei soltanto con una semplice introduzione di alcuni temi per dare immediatamente la parola ai nostri ospiti ed entrare nel merito della discussione. Sappiamo tutti che ci sono in discussione per quanto riguarda la legge elettorale due pacchetti referendum, uno presentato da Stefano Passiglia e altri che propone l'abolizione delle liste bloccate e porta con sé anche qualche altro quesito relativo al premio di maggioranza di coalizione, all'indicazione del candidato premio della soglia del 2% legata all'attribuzione dei seggi per le liste collegate, sappiamo che lunedì ci sarà la presentazione di altri quesiti da parte di Stefano Ceccanti e di altri parlamentari che propongono sulla scorta di un argomento che è stato definito della riviviscenza, l'abolizione dell'attuale legge elettorale per tornare sostanzialmente alla legge elettorale precedente che è il mattarellum, sappiamo che è aperta una discussione nel PD e non soltanto, e sappiamo che sostanzialmente il tema della legge elettorale incrocia altri aspetti estremamente importanti, non soltanto appunto la legge elettorale ma anche temi di carattere e di riforma istituzionale come il tema dell'approfondimento della riforma sul federalismo, è ancora in corso la riforma sul federalismo fiscale, deve completare il suo percorso al tempo stesso, sappiamo che è in discussione, è stata messa in discussione un provvedimento relativamente alle province e che anche la discussione sulle province comunque si inquadra nell'ambito più complessivo della discussione sulla riforma in senso federale dello Stato e su eventuale approfondimento oltre il titolo quinto e io credo che lì il tema di come si intervenga sulle province sia importante affrontarlo in rapporto anche a come le province possano esserci o non esserci o trasformarsi all'interno di un disegno più complessivo di articolazione dello Stato su base federale. Quindi i temi sono diversi in questo senso e incrociano appunto anche non solo il livello della legge elettorale ma anche quello della riforma istituzionale. Ancora, venerdì prossimo dovrebbe esserci la direzione nazionale del Partito Democratico in cui dovrebbe essere presentata una proposta di riforma della legge elettorale ad opera di Giancarlo Bressa e di Luciano Violante della quale molti di noi hanno letto soltanto alcuni aspetti in maniera molto superficiale e molto sintetica dai giornali e di cui speriamo di poter apprendere qualcosa di più in questa sede. Quindi questo è il quadrato della nostra discussione. Senza dimenticare che siamo in una fase in cui il tema della riforma elettorale incrocia non soltanto il tema della riforma istituzionale ma anche il tema di una rilettura e revisione dei processi della rappresentanza politica. È aperta la discussione sul ruolo delle primarie. Le primarie diventano oggi anche un tema di discussione all'interno del centro-destra. È evidente che la riforma della legge elettorale va di pari passo anche con un intervento relativo alla disciplina magari sulla base di una regolamentazione pubblica che la estenda a tutti i partiti delle elezioni primarie e questo per come appunto il tema delle primarie, allacciandosi al tema della riforma della legge elettorale, riguarda un nodo cruciale, la selezione della classe politica dirigente. Aspetto cruciale di straordinaria importanza soprattutto anche in rapporto al fatto che il sistema politico italiano non gode di ottima salute e quindi un intervento sul piano delle condizioni di legittimità delle sue rappresentanze può essere estremamente utile. Io credo che si parta un po' da questo tipo di quadrato nella nostra discussione e penso in modo particolare che sia importante inquadrarla appunto per quello che concerne anche la questione più generale di come andare a chiudere la transizione italiana. Siamo in una fase in cui sembra profilarsi una possibilità di ritorno al proporzionale, siamo in una fase in cui probabilmente il PD ma le altre forze politiche devono decidere anche che tipo di proposta avanzare al paese, cioè se andare in direzione di una legge che stabilizzi e consolidi una dinamica di tipo bibolare o viceversa tornare ad una dinamica di tipo proporzionale. La cosa non è del tutto indifferente perché dietro qui vi sono due elementi fondamentali rispetto a quello che lasciamo in quanto a potere ai cittadini, cioè la capacità di poter scegliere chi governa, non soltanto chi si elegge e questo è il tema specifico della legge elettorale, ma anche scegliere chi governa. In secondo luogo è un tema importante anche perché è evidente che parte delle difficoltà che si avvertono nel quadro italiano e che iniziano a avere delle significative ripercussioni anche nel quadro internazionale, non solo in ambito politico ma anche se non soprattutto nel campo economico e finanziario, abbiamo visto quanto è accaduto alla borsa di Milano ieri, è molto probabile abbia qualcosa a che fare anche con come la democrazia italiana decide, prende le decisioni, riesce a essere una democrazia in grado di governare i processi reali, specie in una fase di crisi come questa. Ciò detto io inizierei la nostra discussione chiedendo ai nostri ospiti di fare un primo sintetico intervento che stia nell'arco dei dieci minuti per poi riprendere magari con un secondo giro più breve di 3-5 minuti per eventuali repliche. I temi sono questi, partirei da Giancarlo Bressa anche per motivi di curiosità, Gianclaudio Bressa per motivi di curiosità, perché venerdì prossimo c'è questa direzione nazionale del Partito Democratico e appunto sul tavolo dovrebbe esserci questa nuova proposta di riforma della legge elettorale che peraltro è a tutti noi nota soltanto per quelle poche righe che abbiamo avuto modo di leggere sui giornali, quindi appare a tutti noi molto scura. Intanto direi che non è una novità perché due direzioni fa il segretario Bersani nella sua relazione ha delineato qual è la scelta di fondo del Partito Democratico per quanto concerne la questione della legge elettorale, cioè un sistema a collegi uninominali a doppio turno con un recupero proporzionale. Dopo comunque crederò di fugare i dubbi, però prima vorrei fare un ragionamento anche per rispondere alle cose che tu hai detto. Innanzitutto partirei da un'affermazione che deve essere molto chiara perché se abbiamo chiaro questo diventa più chiaro tutto il resto. I sistemi politici si danno dei sistemi elettorali, però il sistema elettorale una volta che è stato costruito riproduce degli effetti di ritorno sul sistema politico. Questo che cosa vuol dire? Che il sistema elettorale è la chiave di volta per capire che tipo di sistema politico noi vogliamo. Ecco allora che si capisce che non è del tutto indifferente parlare del porcellum, parlare dei due referendum o parlare della proposta che il Partito Democratico ha relativamente la legge elettorale. La seconda breve premessa che voglio fare è questa. Noi abbiamo una Costituzione che tante volte viene dimenticata in quelle che sono le sue questioni più rilevanti e ancora più di attualità. E noi per quanto riguarda la questione della partecipazione politica, dei partiti politici, abbiamo due articoli fondamentali della nostra Costituzione che sostanzialmente in questo momento non trovano nessuna forma di realizzazione. Mi riferisco all'articolo 18, i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente senza autorizzazione per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale, che va letto l'articolo 18 assieme all'articolo 49. Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale. Perché ho voluto rileggerli? Perché questo è uno dei punti di non attuazione della nostra Costituzione. Il partito come forma della democrazia e come esercizio di libertà. Questo la Costituzione ha voluto dire. Ha rotto la barriera che c'era tra le libertà civili e le libertà politiche, quella separatezza che era propria di altri regimi, e ha fornito alla società civile e alla società politica degli strumenti per consentire una partecipazione autentica. Questa dimensione è ancora sconosciuta. Nel senso che noi non abbiamo mai proceduto a ragionare seriamente su come si possa in qualche modo regolare le funzioni pubblicistiche che la Costituzione affida ai partiti come strumenti di democrazia e di esercizio di libertà. E guardate che questa è una cosa non secondaria, perché io credo che in questo momento l'unico soggetto politico presente in Italia che è in grado di assolvere compiutamente a questa funzione è il Partito Democratico. E non vorrei che lo dimenticassimo per delle cose che dirò dopo. La terza e ultima premessa che voglio fare riguarda la questione della rappresentanza. Tu hai detto giustamente che la questione della legge elettorale ha a che fare con la rappresentanza. Ha a che fare anche con altre cose ma io vorrei concentrarmi su questo. Noi stiamo assistendo a una marginalizzazione del ruolo del Parlamento. E questo deriva da fatti storicamente facilmente definibili. Il potere legislativo nel corso di questi decenni si è allocato sempre di più a livello europeo in alto e a livello regionale in basso. E quindi la funzione legislativa propria del Parlamento in qualche modo si è compressa. Mentre dovrebbero essere potenziate e questo è uno dei temi irrisolti della riforma costituzionale la funzione di controllo e di indirizzo del Parlamento. Ma il problema della rappresentanza non deriva solo da questo fatto. Deriva anche dal fatto che questo è un Parlamento di nominati e non di eletti. E guardate che questo ha una importanza cruciale perché la costruzione dell'unità nazionale non si fa solo facendo riferimento alle istituzioni dell'unità il Presidente della Repubblica la Corte Costituzionale ma soprattutto alle istituzioni del pluralismo e in primo luogo al Parlamento perché è lì che c'è la possibilità di far valere quel confronto a cui ha fatto riferimento Emilia nella sua introduzione nelle quali il confronto può esplicarsi liberamente alla ricerca di trovare soluzioni e non di esasperare conflitti. E io credo ancora nella centralità della funzione del Parlamento e quindi della necessità e della ineluttabilità di una legge elettorale che sia in grado di garantire una vera rappresentanza. E veniamo alle questioni delle leggi elettorali vere e proprie. Noi stiamo discutendo di una legge elettorale che fu frutto di un blitz il Porcellum in una notte di settembre del 2005. Per tutto luglio si era discusso di come modificare la mattarella soprattutto di eliminare le distorsioni che derivavano dal fatto della possibilità di presentare delle liste civetta. C'è la pausa estiva alla ripresa dei lavori ai primi di settembre il governo con un sub-emendamento cioè con una procedura parlamentare che non consentiva nessun tipo di replica nessun tipo di azione ha presentato il Porcellum e poi l'ha fatto votare. Non sto a descrivervi quali sono gli elementi negativi del Porcellum però vediamo quali sono le risposte in campo per uscire dal Porcellum. Tu giustamente ricordavi che ci sono due referendum in atto e la proposta del Partito Democratico. I due referendum in atto vediamo di capire qual è la portata. Cominciamo dal primo quello che a leggere i giornali di oggi dovrebbe essere stato ritirato quello di Passigli il quale ha un quesito civetta in qualche modo seducente cioè quello che dice consentiamo ai cittadini di tornare a poter scegliersi i rappresentanti consentendo loro di esprimere le preferenze. Ma è un quesito costruito in maniera talmente cervellotica che ha scarsissime per non dire nulle possibilità di essere accolto. Gli altri due quesiti che cosa producono? Producono sostanzialmente l'eliminazione del premio di maggioranza e ci riconsegnerebbero un porcellum sempre con le liste bloccate e senza premio di maggioranza cioè un sistema proporzionale purissimo senza nessuna forma di correttivo del tipo di quella tedesca che è sì un sistema proporzionale ma avendo i collegi uninominali ha degli elementi correttivi in senso bipolare. Quindi un referendum che va a scassare completamente il sistema politico italiano e il bipolarismo. Io sono assolutamente contento che se le cose che sono scritte sui giornali oggi sono vere sia stato tolto di torno. Abbiamo ma dopo qui parlerà dopo di me Stefano l'ipotesi no no va bene lo tengo più vicino l'ipotesi di far rivivere il mattarellum. Ora io non entro nel merito sul fatto se questo sia possibile o meno perché la dottrina è variamente divisa ma non è questo che ci interessa. Io quello che vorrei riflettere è sul tipo di effetto che il ritorno al mattarellum potrebbe causare. Vedete il mattarellum e il modello che poi alla fine vi illustrerò brevemente proposto dal partito democratico sono tutti e due sistemi elettorali cosiddetti misti. Tentano cioè di tenere insieme una parte di maggioritario e una parte di proporzionale. Il problema non è o meglio non è solo quanto maggioritario e quanto proporzionale ma è piuttosto come essi si possono combinare tra loro come interagisce questa combinazione tra maggioritario e proporzionale e che effetti produce. Allora qual è la mia preplessità rispetto al mattarellum? Che il mattarellum ci fa fare dei passi indietro come partito democratico. Cioè se il referendum di Passigli scassava il sistema bipolare il referendum per il ritorno al mattarellum rischia di scassare il partito democratico. Perché come voi vi ricorderete bene avendo immagino tutti voi votato in più di un'occasione col mattarellum sono collegi uninominali a un turno unico per cui la condizione per cercare di vincere quel collegio in un turno unico è quello di fare una coalizione e presentarsi con quel simbolo coalizionale nei collegi uninominali. ve lo ricorderete perfettamente era l'ulivo nelle elezioni precedenti. Questo che cosa significa? Significa che per l'elezione del 75% dei parlamentari il partito democratico non compare come partito. E io credo che questo sia un errore o meglio non un errore è un sistema elettorale che funziona sicuramente e che non ha nessuna distorsione dal punto di vista della democrazia e della rappresentanza ma dal punto di vista politico rappresenta un passo indietro perché noi rispetto a quando è stato fatto il mattarellum abbiamo fatto il partito democratico e per me il partito democratico se ritorniamo alle cose che dicevo all'inizio sul ruolo costituzionale dei partiti è un valore che non deve essere perduto. e veniamo allora alla proposta del partito democratico così com'è su questa e io capisco anche perché non essendo noto il testo tutti sono legittimati a fare le valutazioni che ritengono più proprie dal loro punto di vista ma è stato in qualche modo contrabandato come la riproposizione del modello ungherese accompagnando con una certa malizia questa definizione che l'Ungheria non è il massimo della democrazia in Europa ma non è nulla di tutto questo rispetto al modello ungherese ha solo due punti di contatto e ne ha invece otto di totale e assoluta diversità i due punti di contatto sono che è a doppio turno su collegi uninominali e che ha tre livelli di ripartizione dei seggi adesso vi spiego com'è così è più facile farmi capire sono collegi uninominali per una quantità notevole superiore a 60% io adesso non vi do le percentuali giuste perché questo è ancora l'aspetto che con Bersani deve essere definito puntualmente però collegi uninominali per una quantità di eletti superiore a 60% collegi uninominali a doppio turno nel senso che se sei eletto al primo turno se superi i 50% più uno dei voti vai al secondo turno e al secondo turno sono ammessi tutti coloro che superano al primo turno la soglia del 10% 10% ovviamente tu hai la possibilità di presentarti non sei tenuto a presentarti come avviene in Francia in Francia la soglia è un po' più alta il 12,5% questo che cosa significa? significa significa che l'accordo politico avviene comunque prima della fine delle elezioni perché l'accordo politico avviene tra il primo e il secondo turno per stabilire chi sarà il vincitore di quel collegio questo è la gran parte dei seggi che vengono assegnati ma siccome noi siamo un paese politicamente strano non solo dal punto di vista delle opzioni politiche ma anche della dislocazione del consenso così come fu pensato per la Mattarella si è pensato di introdurre un correttivo proporzionale questo correttivo proporzionale trova la sua redistribuzione non in un collegio unico nazionale ma nei collegi delle singole circoscrizioni e vengono ammessi a questo riparto proporzionale tutti i voti depurati dei voti che hanno garantito l'elezione del candidato al primo o al secondo turno questo per garantire su questa percentuale che è attorno al 30% 25-30% un effetto riproporzionalizzante che ha un effetto riproporzionalizzante sia dal punto di vista politico sia dal punto di vista territoriale perché noi sappiamo che abbiamo regioni in cui il consenso politico è fortemente polarizzato in una direzione piuttosto che in un'altra l'esempio dell'Emilia Romagna ci fa capire che cosa voglio dire non so più se questo discorso possa valere per la Lombardia può darsi che valga per una parte della Lombardia ma sicuramente non più per Milano però l'effetto della ridistribuzione su sulle circoscrizioni vuole portare questo risultato vi è poi una parte finale non superiore al 5% che è che serve a garantire il diritto di tribuna e alla quale sono ammessi tutti i partiti che però si vedono togliere tutti i voti che hanno garantito l'elezione dei propri rappresentanti nei collegi uninominali sia nella quota proporzionale circoscrizionale sia in quella nazionale ci sono delle soglie ora voi capite che a seconda di come mettiamo la soglia faccio l'esempio a livello circoscrizionale la soglia del 3 del 4 del 5 del 6% cambia il risultato così come la soglia nazionale del 2 del 3 del 4 del 5% cambia gli effetti di riproporzionalizzazione questi aspetti di dettaglio sono le questioni che devono essere da qui al 19 compiutamente definite la proposta che abbiamo è una proposta che ha già questa definizione ed è una proposta che così come è stata pensata è una proposta fortemente bipolarizzante che garantisce la rappresentanza politica in maniera seria perché ripeto è oltre il 60% per scelta diretta da parte dei cittadini sui collegi uninominali e garantisce anche la rappresentanza dei territori che in una democrazia complicata come la nostra non è una cosa da sottovalutare soprattutto in tempi di crisi acutissime e profonda che porteranno probabilmente a disarticolare in maniera ancora più complicata il paese non solo tra nord e sud ma sempre di più anche tra regioni e regioni grazie Gian Claudio Bressa ci sono altri dettagli ma eventualmente dopo ok che ci sia il ritiro annunciato dai giornali del referendum Passigli può essere già una buona notizia sulla frammentazione diciamo legata al Mattarellum i limiti del Mattarellum possiamo discuterne adesso sentiamo anche Stefano Ceccanti tra l'altro secondo me non è tanto il problema del Partito Democratico possa essere presente o meno ma è il fatto che comunque l'assegnazione di collegi in turno in un singolo turno in collegi uninominali aveva prodotto quella sorta di mercato per cui vi era un fortissimo potere di contrattazione di partiti piccoli nei collegi marginali quindi questo impediva di ridurre la frammentazione cosa che invece una legge elettorale almeno per il caso italiano sarebbe meglio riuscisse a costruire a modellare una cosa però mi viene in mente non è che nella discussione che vede affollarsi proposte referendari e vi sia il fatto che all'interno del PD non vi sia una chiara e decisiva presa di posizione un chiaro orientamento tra chi vuole con forza mantenere una dinamica maggioritaria e chi viceversa vorrebbe tornare al proporzionale non è che forse questo è il motivo del moltiplicarsi anche di questi appunto di queste presentazioni di requisiti referendari passo la domanda a Stefano riprendendo comunque il discorso che appunto avevamo lasciato anche in sospeso con i punti messi sul tappeto prima allora io faccio un'operazione inversa a quella che ha fatto Gianclausio parto dalle cose specifiche rispondo prima alle cose specifiche e poi risalgo ai principi perché così cambio il metodo evito quello che dice Salvati che poi diventiamo noiosi perché siamo tecnici però siccome devo alcune risposte puntuali le risposte puntuali poi risalgo per carità sarà pure vero che usare l'istrumento referendario per fare riforme elettorali non è risolutivo certo era difficile per via referendario una legge peggiore del Porcello che una legge votata in Parlamento per cui il corpo elettorale ha le sue irrazionalità e i suoi limiti il Parlamento è in grado anche di fare peggio per cui io eviterei di usare asserzioni generali il corpo elettorale fa male le leggi elettorali le può fare anche meglio il Parlamento se il Parlamento fa le leggi come il Porcello per cui evitiamo affermazioni dogmatiche stiamo molto sul terreno concreto allora noi abbiamo una legge elettorale pessima e fin qui ci siamo sbuca fuori il professor Passigli il professor Passigli che mi dice che aveva avuto dei consensi da parte dottorevole esponente del Partito Democratico di cui lui conserva documentazione mi ha detto l'altro giorno quando è venuto in Parlamento presenta tre quesiti due sono finti perché questo bisogna dire è vero che la giurisprudenza e la Corte Costituzionale in materia di ammissività referendaria è una delle cose più strane e imprevedibili che esistano lo dicono tutti i manuali di diritto costituzionale per cui generalmente è un po' difficile per qualsiasi quesito capire se verrà ammesso oppure no ed è una giurisprudenza anche un po' erratica pensiamo per esempio a quelli sulla procreazione assistita lo stesso giorno sono stati ammessi quattro referendum un parziale è stato rifiutato uno totale che era la somma di quei quattro per cui si poteva fare separatamente con quattro quesiti quello che non si poteva fare per uno però ci sono delle cose che palesemente non stanno in piedi cioè se tu fai un quesito dove scrivi che tre più due fa quattro quello non sta proprio in piedi anche se la giurisprudenza è imprevedibile erratica e così via se volete poi ve lo spiego nel dettaglio io lo dico solo molto semplicemente secondo il professor Passigli siccome c'è una norma che c'è oggi che lui non tocca col quesito dove si dice che se c'è uno scrutatore che in un seggio proclama altavoce il nome di uno che non è votato per farlo votare va in galera questo farebbe resuscitare le preferenze una volta che si abolisce la proclamazione dell'Ista questo prova un po' troppo perché allora già oggi uno potrebbe già scrivere le preferenze forse ma comunque questa cosa non sta letteralmente in piedi perché si può discutere se uno possa far resuscitare la legge vigente poco prima far resuscitare addirittura due leggi prima è un miracolo che nemmeno chi ha fatto la resurrezione di Lazzaro ci riuscirebbe poi c'è il quesito sul senato che farebbe secondo il professor Passigli nascere un nuovo sistema anche questo simile a quello che c'era due volte fa un sistema in nominale proporzionale perché siccome ci sono i collegi in nominale in Trentino Alto Adige basta togliere le parole in Trentino Alto Adige e si estende da tutta Italia i collegi nominali col problema che i collegi nominali però ci sono tutti in Trentino Alto Adige quindi forse dovremmo tutti andare a votare in Trentino Alto Adige perché sono gli unici collegi immaterialmente esistenti ecco e non voglio altrimenti c'è troppa concorrenza e tutti i valori ecco questi due quesiti sono finti nessuna persona ragionevole può pensare che siano veri quindi chi ha congegnato dal punto di vista politico l'operazione Passigli sa che sono finti e quindi voleva trainare l'unico referendum vero quello che tenendo le liste bloccate provoca la proporzionale pura con sbarramento al 4 la razio di questo di chi sostiene questo referendum è stata spiegata benissimo sul foglio 15 giorni fa da Francesco Kundari Francesco Kundari autorevole opinionista vicino a Massimo D'Alema ha detto è ora di tornare al fatto che i leader illuminati facciano loro il governo in Parlamento e non il corpo elettorale è stato teorizzato questo questo che non è la forma parlamentare delle grandi democrazie che che ne dica Tabacci questa è la forma parlamentare assembleare che è una cosa diversa della forma parlamentare delle grandi democrazie perché l'esigenza di una legittimazione popolare del governo è un'esigenza comune a tutte le grandi democrazie che se dovessimo fare formalista lo dovremmo dire che in America non c'è nessuna elezione popolare diretta del presidente perché lo leggono i grandi elettori che in astratto potrebbe accadere che qualche seggio lo prendano dei candidati indipendenti che quindi il collegio dei grandi elettori potrebbe essere determinante in America quindi formalmente le elezioni dirette non c'è neanche in America qualcuno potrebbe non capire perché in Spagna Zabatero ha detto che non si ripresentava dicendo io ho avuto due mandati popolari diretti dopo due mandati popolari diretti uno non si ripresenta anche se non c'è un limite formale il paese anche questo parlamentare ma il sistema è congegnato in modo tale che ogni partito come sa bene Michele Salvati presenta ogni partito nei cui statuti c'è scritto che c'è un candidato alla presidenza del governo da sottoporre agli elettori si presenta capolista nelle circoscrizioni Madrid questi sono i quesiti Passigli rispetto a questa iniziativa diciamo una volta che si è materializzata questa iniziativa nella sua pericolosità cioè non come una cosa che si è inventato il professor Passigli la notte con dieci intellettuali ognuno di noi si inventa le cose più folli non c'è nessun problema ma di sfondo al fatto che erano stati annunciati appoggi organizzati tali da superare i 500.000 firme e quindi da poter arrivare nel caso al corpo elettorale in caso di inerzia del Parlamento quindi nel caso in astratto possibile di inerzia del Parlamento in assenza di qualsiasi altra iniziativa c'era volete le liste bloccate con il premio di maggioranza o le liste bloccate senza il premio di maggioranza ora francamente diciamo che il corpo elettorale sia costretto a scegliere tra queste due cose non mi sembra una grande idea perché io mi dovevo trovare nella condizione di dire se è meglio avere io finirei per dire che purtroppo dovrei votare a favore della legge di Calderoli che ti nega il diritto a scegliere i rappresentanti ti favorisce abbastanza la scelta del governo o quella di Bastigli che non ti dà la prima cosa e ti toglie pure la seconda però io vorrei evitare di dover costringere me stesso eppure gli altri dove scegliete due cose tragicamente sbagliate e magari a dover confermare in via referendare una legge schifosissima allora a questo punto che cosa abbiamo fatto in diversi siccome Pierluigi Castagnetti in questi anni ha avuto il merito di sollecitare i vari costituzionalisti a inventarsi dei quesiti per vedere se era possibile fare un'operazione che per carità non resuscita una legge che è perfetta cioè che comunque sia la legge Mattarella rispetto a Bastigli al Porcellum è non dico il paradiso ma una zona alta del purgatorio di quelli che stanno per uscire verso il paradiso rispetto a due inferni più o meno equivalenti e di conseguenza sono stati costruiti due quesiti uno più secco l'altro più raffinato che seguiva l'elaborazione che l'ha costruito più alla fine il professor Andrea Morrone sulla base di varie altre persone che si erano avevano inventato questi due eccetera per dire vabbè quantomeno ci diamo una legittima difesa c'è una legittima difesa ci sono degli altri quesiti dopodiché se l'altro comitato ritira definitivamente la raccolta di firme noi offriamo questi quesiti al parito democratico ne faccia quello che crede non abbiamo bisogno di fare un'ulteriore raccolta di firme ma se il professor Passigli va avanti sugli altri quesiti allora la legittima difesa non può che scattare perché il corpo elettorale non può trovarsi di fronte a due alternative tutte e due sbagliate lunedì questi quesiti verranno depositati perché solo depositandoli si crea un comitato dopodiché siccome il professor Passigli ha chiesto un incontro tra i due comitati il comitato che presenta i due quesiti sulla legge Mattarella si incontrerà con il professor Passigli se la proposta del disarmo bilaterale simultaneo in cui nessuno raccoglie niente ci sarà il disarmo bilaterale senza problemi se viceversa il professor Passigli proporrà una delle cose che ha proposto in questi giorni ma visto che siamo d'accordo contro le liste bloccate facciamo un accordo e raccogliamo tutti sul nostro quesito falso contro le liste bloccate non li potremmo che dire siccome abbiamo detto finora che il quesito è falso non possiamo chiedere alla gente andare a raccogliere le cose su un quesito che noi abbiamo detto che è falso e questa è la parte diciamo politico pratica di risposta immediata vengo ai due punti chiave a cosa serve un buon sistema elettorale che noi al di là noi possiamo presentare anche le migliori proposte però non dobbiamo mai smarrire i principi perché anche le nostre proposte di partenza stanno poi dentro un negoziato parlamentare che molto probabilmente produce alla fine dei punti di arrivo diversi punti di partenza bisogna sempre vedere se i punti di arrivo sono congruenti con i principi da cui noi siamo partiti ai punti di partenza questo è il problema di fondo perché si può partire da uno schema anche astrettamente molto positivo tutti gli schemi che prevedono una grande maggioranza di parlamentari eletti in collegi nominali maggioritari a doppio turno sono migliori in tutte quelle leggi di cui abbiamo parlato finora compreso la legge Mattarella ma il problema è di vedere dove arriviamo anche perché il problema non è solo cosa giova al PD e come si può avere un rapporto positivo con gli alleati c'è un terzo punto che il sistema che è più importante di tutti deve servire a tenere insieme un paese a rendere rappresentato e governabile un paese non è che si può fare un sistema che risponde solo alle prime due caratteristiche cioè che va bene al PD e che va bene ai suoi potenziali alleati perché se noi non inseriamo anche come terzo vincolo quello che questo sistema serva a rappresentare e a governare il paese rischiamo il PD e i suoi alleati magari di fare un sistema che risponda alle esigenze immediate ma che poi provoca catastrofi cioè facciamo un errore uguale a quello che è stato fatto dal punto di vista metodologico con la legge del centro-destra che poi si è scaricata su tutti noi ora dal punto di vista della scelta le elezioni hanno un significato doppio un primo significato è quello originario della scelta dei rappresentanti quando ancora i governi erano i governi del re quindi non c'era il problema di costruire una maggioranza di governo c'era il problema di eleggere bene dei rappresentanti con dei buoni sistemi elettorali allargando progressivamente il suffragio in modo tale che ci fossero dei rappresentanti autorevoli in grado di limitare il potere del governo che per il momento restava nelle mani del re ora questi sistemi sono i sistemi che eleggono poche persone in collegi piccoli per vari motivi il motivo più tradizionale è quello che permette di sapere tra coloro in cui si può fare la scelta e di avere un rapporto personale pur con lo stile professionalizzante le campagne attuali e consente non incidentalmente di avere un abbattimento rilevante dei costi della politica perché essere eletti in un collegio uninominali da centomila persone dove si eleggono due, tre, quattro persone è una cosa essere eletti in collegi pluriprovinciali col voto di preferenza significa innescare una serie di dinamiche che nel migliore dei casi portano un costo esponenziale dei costi della politica nel peggiore dei casi portano direttamente all'autorapresentazione politica della mafia della camorra dell'andrangheta su tutto il territorio nazionale quindi il primo problema è avere un sistema che elegga la gran parte dei parlamentari o in collegi uninominali o in collegi con due tre quattro persone io non faccio una religione neanche del collegio uninominali dico solo che dobbiamo garantire che i collegi elegano poche persone che quindi anche i grandi partiti non abbiano più di uno o due eletti per circoscrizione in modo tale che si tenga questo rapporto che è un rapporto che dà alla parola rappresentanza un significato vero perché altrimenti la rappresentanza è un ente metafisico astratto che non ha una non è tangibile da parte degli elettori il secondo elemento è come questa scelta dei rappresentanti consente anche al tempo stesso agli elettori di dire chi vogliono che li governi allora questa appunto esigenza è l'esigenza di tutte le forme di governo non è che se mettiamo uno in una casella presidenziale o in una casella parlamentare l'esigenza è una grande democrazia che dalle elezioni esca qualcuno che vince e ci ha un mandato per governare e non ci sia questa esigenza c'è ma voi vi immaginate che se noi nel nostro paese identificassimo l'idea che si fanno i governi in Parlamento a prescindere dal voto degli elettori ricontrattandoli permanentemente mentre comuni province e regioni hanno sistemi fortemente decidenti il giorno che in Parlamento ha imballato una regione ben governata dice vabbè ma facciamo la secessione noi siamo in governarci bene da soli a livello nazionale il Parlamento ha impallato che cosa dobbiamo fare noi non possiamo differenziare più di tanto le logiche istituzionali che funzionano tra i vari livelli certo bisogna tener conto della specificità dei vari livelli ma insomma perché un elettore deve votare direttamente il sindaco il presidente della provincia il presidente della regione e in questi giorni stiamo dicendo che siccome l'Europa ha poteri crescenti bisogna trovare un modo di legittimare direttamente il governo europeo e non ci dovrebbe essere anche una forma di legittimazione sul governo nazionale di legittimazione non necessariamente di elezione diretta quindi il sistema ha anche il compito di scremare un vincitore poi le tecniche si discutono però insomma la sera delle elezioni il segretario del primo partito della coalizione che ha vinto deve fare il candidato premier questo è il punto poi per carità possono succedere delle cose un caso su cento può darsi che quel sistema non dia un risultato come è accaduto in Inghilterra ma il sistema è congegnato per darlo il risultato ci può essere l'eccezione poi ci può essere la necessità in corso di legislatura di cambiare una volta il premio perché uno rimbambisce benissimo però il sistema deve essere strutturato perché il mandato ci sia non perché il mandato non ci sia ora siccome noi abbiamo dei potenziali alleati che vorrebbero che il mandato non ci fosse per fare magari il presidente del consiglio col 6-7% dei voti io penso che noi non dovremmo arrivare a ingraziarci i nostri potenziali alleati fino a riprodurre un sistema distorto in cui non c'è un rapporto tra consenso potere e responsabilità noi dobbiamo tenere fermi questi principi nelle nostre proposte di partenza ma soprattutto spiegando bene che questi sono anche i principi che valgono per i punti di arrivo che noi siamo disponibili a approvare grazie grazie bene veniamo a Maurizio Migliavacca beh mi viene a chiedere siccome siamo arrivati alla situazione in cui facciamo il referendum per deterrenza dentro ti giro la palla così nel PD al di là delle diverse posizioni che legittimamente ci sono però riusciamo a arrivare ad una posizione comune senza che scoppia un conflitto termonucleare globale io faccio una premessa considero la legge elettorale una cosa importante e spiegherò perché è importante ma io la penso come salvata io non riesco ad appassionarmi più di tanto al tema delle leggi elettorali perché è importante perché non mi non mi appassiono più di tanto penso che non sia giusto appassionarsi più di tanto io penso che la legge elettorale è importante è importantissima per una cosa nel plasmare il rapporto tra cittadini ed eletti sotto questo profilo non c'è dubbio che il porcellum è una porcata prima lo togliamo meglio è bisogna restituire ai cittadini la possibilità di scegliere i parlamentari perché è un parlamento di nominati insomma ha tutte le derive negative che conosciamo detto questo io relativizzo gli altri aspetti cioè io non penso che una legge elettorale sia determinante nel plasmare la natura la funzione le sorti di un partito e non penso neanche cercherò di dimostrarlo che una legge elettorale sia determinante nell'assicurare la governabilità la stabilità e via dicendo più un paese faccio una premessa così ci chiariamo subito con ceccanti noi non siamo favorevoli al ritorno al proporzionale ben prima che sorgesse questa questione del referendum Passigli noi a Passigli abbiamo detto subito che non eravamo d'accordo ma l'avremmo sostenuto ci sono documenti delle assemblee nazionali ci sono dichiarazioni di Bersani noi da mesi e mesi e la proposta che è illustrato Bressa prima va in questo senso siamo su una proposta siamo su una linea che dice cerchiamo di civilizzare il bipolarismo italiano questo è la proposta poi il senso politico adesso al di là delle tecnicalità cioè di evitare quegli elementi di radicalizzazione di rigidità di radicalità e di rigidità che insomma da non ho qui bisogna di spiegarlo a voi insomma hanno tutti i difetti che hanno io sono noi siamo nettamente contrari ad un ritorno e anche rispetto io capisco anche quelli che dicono il sistema tedesco a parte che D'Alema ha chiarito ma il sistema tedesco c'è un piccolo problema che non siamo in Germania cioè voglio dire dal punto di vista culturale dal punto di vista diciamo del senso comune quindi chiarito questo perché ritengo che il tema non sul rapporto tra cittadini ed eletti ma partiti stabilità governo vado un attimino relativizzato perché per quel che riguarda i partiti io vorrei ricordare che la prima prova elettorale del partito democratico non sono state le elezioni politiche del 2008 la prima prova elettorale del partito democratico sono state le elezioni europee proporzionali del 2004 quando allora ci chiamavamo uniti nell'ulivo dove l'allora uniti nell'ulivo che poi era il partito democratico sostanzialmente si è preso il 31,5% dei voti grosso modo quello che ha preso poi nel 2008 so bene che mi potreste obiettare va bene ma sì era un sistema elettorale ma è avvenuto in un clima in una condizione politica bipolare io a questa obiezione rispondo dicendo che secondo me io ne sono convinto nella cultura nel senso comune degli italiani è ormai entrata una cultura che tende verso il bipolarismo oltre che la scelta diretta e quindi per dire che questo non mi porta a dire è chiaro ritornare al proporzionale sono contrario mi porta a dire che relativizziamolo il progetto del partito democratico secondo me ha una forza e avrà un successo io penso avrà un successo al limite anche indipendentemente adesso sto esagerando ma indipendentemente diciamo dalla legge elettorale secondo la legge elettorale non garantita cioè togliamoci allora può aiutare per l'amor del cielo ma adesso sento qui parlare del mattarello io voglio ricordare a noi tutti io penso anch'io che al limite è meglio il mattarello ma stiamo parlando di riduzione del danno non è che sto parlando di enfatizzazione di modelli cioè mattarello l'abbiamo sperimentato il mattarello ci ha portato ad avere nel campo del centro-sinistra non mi ricordo tra tutto 15 gruppi parlamentari un casino che non finiva più che anche prodi o anche lo spirito santo non sarebbe riuscito a governare primo punto secondo il mattarello non ha garantito la governabilità e la stabilità di questo paese è talmente vero che l'unione il centro-sinistra ha avuto i problemi che ha avuto e parzialmente un po' meno ce li ha avuti anche Berlusconi e il centro-destra tra il 2001 e il 2006 e comunque non ci ha evitato dai problemi dalle criticità dell'unione quindi non mi pare proprio che questa sia la strada allora qual è la strada? io penso che la proposta che il partito democratico ha fatto quella che illustrato Bressa è una buona proposta secondo me ha questo senso politico adesso non entro nella tecnicalità cioè civilizzare il bipolarismo italiano introdurre anche degli elementi di flessibilità di flessibilità perché un sistema politico deve avere anche qualche elemento di flessibilità e ha il merito anche di ricostruire un rapporto forte attraverso i collegi territoriali a doppio turno e così via tra cittadini tra elettori candidati tra gli elettori eletti oltre che dare attraverso questo meccanismo un'indicazione chiara anche forte sul tipo di governo che gli elettori la maggioranza degli elettori vogliono io penso che il partito democratico debba fare una battaglia politico parlamentare fortissima in queste settimane in questi mesi a sostegno di questa proposta credo di non sbagliarmi se dico che martedì prossimo la direzione nazionale del PD si troverà non a larga maggioranza ma a larghissima maggioranza su questa proposta so anche che su questa proposta è del tutto possibile un dialogo nel campo delle opposizioni con le diverse forze delle opposizioni naturalmente questo non è sufficiente ad arrivare ad un voto parlamentare e qui incrociamo il tema del referendum chiarita il passigli io penso che questa questione del referendum sia partita col piede sbagliato è partita col piede sbagliato perché ho detto che non condivido non condividiamo la proposta del passigli ma io credo che la risposta a questo non è quella di un altro referendum perché se no secondo me io sottolineo adesso potrei andare avanti ma adesso a parte gli aspetti di costituzionalità primo l'elemento di confusione che si genera l'elemento di divisione che si produce anche nel campo elettorale del centro-sinistra sottolineo anche che questa cosa qui crea anche qualche piccolo problema istituzionale e costituzionale io voglio vederla a una corte costituzionale che si trova di fronte a due referendum tra di loro o con gli esiti del tutto contraddittori cerchiamo di evitarla e cerchiamo di evitarla tant'è che non rivelo nessun segreto qualche uno di voi lo sa noi in questi giorni ci abbiamo lavorato decisamente Passigli è arrivato a questa proposta a questa proposta che è quella di un disarmo bilanciato Stefano ha detto presentiamo comunque il quesito poi discutiamo io dico non metto in discussione la buona intenzione di Stefano dico occhio occhio perché non vorrei che si mettessero in moto dei meccanismi invece che si autoalimentano e ci portano esattamente nella direzione che non vogliamo io credo che la strada migliore sia quella appunto di andare ad un azzeramento ad un ricompattamento che è possibile innanzitutto della stragrande maggioranza del PD sulla sua proposta ad una decisa battaglia politico e parlamentare e poi avendo azzerato tutto vedremo un attimo insieme quali possono essere le altre tappe quindi io rinnovo questo appello sapendo che sul versante Passiglia a questo punto la disponibilità c'è come si può leggere anche sui giornali di questa mattina detto questo e concludo non so se ancora qualche minuto per dire che qual è secondo me il punto fondamentale non ho il tempo di svolgerlo ma lo voglio segnalare soltanto il punto fondamentale secondo me è l'assetto democratico se volete la riforma democratica del paese anche in relazione alla drammaticità dell'economia della crisi economica finanziaria di cui stiamo parlando perché il berlusconismo ha prodotto tra le tante cose tra i tanti danni diciamo così anche un profondo disallineamento se volete una profonda divaricazione tra costituzione formale e costituzione materiale noi abbiamo una costituzione formale che è in larghissima misura ancora quella del 48 e una costituzione materiale che sotto l'effetto del berlusconismo ha preso una certa direzione chiamiamola lideristica parapresidenziale il tema adesso ovviamente è molto più prudente visto che non ha più una maggioranza il popolo contro le istituzioni e via dicendo primo problema secondo problema e qui c'è anche qualche responsabilità della sinistra della centrosinistra bisogna dirlo che noi abbiamo proceduto nell'ultimo decennio nell'ultimo decennio forse nell'ultimo quindicennio in materia di riforme istituzionali di riforme costituzionali in modo parziale e contraddittorio e l'effetto e l'effetto è una cosa che non tiene che non tiene prendiamo sarà tema di dopo io dico solo il titolo il federalismo con i suoi risvolti fiscali prendiamo il federalismo con i suoi risvolti istituzionali cioè il tema della semplificazione che non si può fare a colpi di propaganda ma va fatta del sistema istituzionale anche locale del paese cose parziali contraddittorie confuse che un paese come l'Italia né sotto il profilo della efficienza del sistema né sotto il profilo dei costi del sistema può consentirsi può permettersi anche per questo e su questo concludo e approfitto del fatto che c'è qui salvati per dire una cosa ma è solo una battuta io penso che l'alternativa al berlusconismo non è la classica alternativa centro-destra centro-sinistra questo è il punto forse anche su questo adesso non so se io penso che l'alternativa al berlusconismo è una fase costituente è una fase di riorganizzazione sia del patto democratico istituzionale sia del patto sociale a proposito di economia e di riforma patto istituzionale e patto sociale io penso che questa ma non è una novità è la proposta del PD cioè una prossima la prossima legislatura deve essere una legislatura costituente ma in questa doppia chiave istituzioni e patto sociale a me pare che su queste due cose in realtà sia i materiali programmatici nostri sia anche le distanze tra i potenziali interlocutori siano risolvibili siano colmabili al di là anche della collocazione politico-elettorale io penso comunque che questa sia la funzione non ho il tempo di svilupparlo del partito democratico e questo secondo me è anche il modo per far emergere la funzione storica del partito democratico cioè di essere il perno di una riorganizzazione della democrazia che riallinei l'Italia a un modello democratico europeo e al tempo stesso anche di una riorganizzazione del patto sociale tra lavoro cultura e impresa che faccia uscire questo paese dalla spirale del declino nel quale purtroppo è grazie grazie ringrazio anche Maurizio Migliavacca peraltro vi ringrazio tutti perché siete stati esaurienti e molto puntuali nei tempi dico solo una cosa è una discussione che come dire apre un'altra storia quindi non la facciamo qua stasera è chiaro che sullo sfondo di questa discussione restano due elementi rispetto al modo di intendere la democrazia come democrazia competitiva legata ad alternanza bipolarismo o democrazia consocitiva legata al proporzionalismo che sono comunque in maniera latente presenti nel dibattito del PD e quindi se come io credo si debba auspicare e come diceva Migliavacca occorrerà preparare una fase costituente per uscire dal berlusconismo sarà anche opportuno riuscire a trovare un modo di portare a conclusione questo passaggio politico cioè di definire insieme all'interno del PD che tipo di immagine di democrazia abbiamo in mente e come intendiamo il PD dentro a quell'immagine di democrazia però come dicevo questa è tutta un'altra storia e la svolgeremo come oggetto di dibattito in un'altra occasione grazie ai nostri ospiti e passiamo a questo punto la parola alla sessione successiva la session